Namaste, sono Ace the Brave e con me sta giocando Yuga Ciao a tutti E siamo al quarto schema di Mother Russia Bleed Vediamo un po' che cosa riusciamo a fare Overdose, cos'è? Character with green skin are literally filled with necro Ah, ok, quindi ci sono dei personaggi Tipo zombie Che hanno questa cosa Non fagli la fatality, perché sennò probabilmente non puoi più Prendergli Ah, ok, perché sono quelli che poi Fanno le convulsioni per terra Quindi stiamo andando verso la capitale Secondo te le indicazioni Andiamo a Sprutyn, Askovny O ABOP Io leggo ABOP Mi sembra ci sia scritto anche Abbiate Grasso Abbiate Grasso, probabilmente Se c'è qualcuno di Abbiate Grasso lo salutiamo Anche chi è di ABOP o chi è russo Magari che ci segue, salutiamo pure E vediamo un po' cosa riusciamo a combinare qua Oh, c'è Mikhail C'è il nostro Mikhail È vero, siete ancora vivi Eh sì Eh sì, siamo vivi ma non tanto Eh no, Vlad, che dico Mikhail Questo è Vlad? Eh sì È bello ritrovarti, Vlad Ah, Mikhail è quello che è il papà Eh, può essere sì Pensavo fossero morti Parlano di... Sì, pensavo fossero morti E subito dopo E subito dopo C'è stato il casino alla prigione People saying Abandoned prisoners Ah, ok Dicono che qualcuno è sfuggito Fuggito dalla prigione Eh sì Di tafferugli che avevamo Esatto Dei lockdowns Ci hanno rinchiuso come degli animali Sotto quella della prigione In un laboratorio che fa crack O qualcosa di simile Esatto Non so neanche per quanto tempo Cosa è successo qua? Per fare una lunga storia Per farla corta Per farla corta, giusto È un mese siamo stati sotto là Madonna Insieme ad altri rom Che erano insieme a te Nella battaglia E non molto dopo Sono arrivati gli spacciatori Con questa nuova droga Che è appunto il necro Che fa parte di questo gioco Senza dubbio La stessa che diciamo La stessa che state parlando Tempismo perfetto C'è qualcuno che sta orchestrando Tutta questa cosa Chi? Una gang? Stai scherzando? To bankroll Erab Si ok Sta dicendo che è una cosa È un po' strano che ci sia Ci sia solo una cosa Esattamente Sembra che ci sia Bratva Bratva penso c'è il governo Bratva si Io continuo a sentire rumori Ma perché è sottofondo Siamo in una stazione Ah Ho detto Mio Dio Ho entrato qualcuno in casa Goddamn scam Chewing up our country Ok Giustamente Bratva Che lui è anti Sì sta dicendo insomma Che sono governo Antisistema C'è il sistema insomma Non arriva Le ruote della rivoluzione Si sta muovendo Esatto Sta girando Quindi ho sentito Stai pianificando qualche sommossa? Intanto protestiamo Ma Sono piccole mani in tasca Non so se hai visto Il crimine è fuori controllo Mikhail È uno d'azione a quanto pare Che sta cercando di far uscire la verità E sta cercando di fare peggio Vlad Ok Vedremo di trovare i responsabili E fargliela pagare Abbiamo un nemico comune Ehm And the state living in the same Well to the district Si sta dicendo dove andare Si sta dicendo dove andare Stai dicendo dove andare Vecino alla capitale Ok Quindi vedremo di andare in là A Menaro Saltiamo un po' Se volete leggerveli Mettete pure pausa al video Così ve li leggete meglio Grazie a te non è il cattivo Senti che musica che hai sottofondo Eh beh La musica è il cattivo Ehm No cos'era che faceva Era il film di Star Trek Che aveva sta cosa Eh no Non si O un qualsiasi album Depeche Mode Esatto Non puoi stare qua È un posto pubblico Sto aspettando il treno Non c'è niente illegale Smettila con l'attitudine Bolshevico Con l'attitudine Con l'attitudine di attitude Vediamo se non puoi mettersi in silenzio Eh adesso facciamo le cose O con le buone o con le cattive Eh sì Bla 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 Occupiamo il campo E tu chi sei? Quelli che chiamano Sì esatto Lo sappiamo Ok I bambini cattivi Esatto Oh Miniamo anche lui adesso C'è volato fuori dallo schermo Vieni qua La musica è alta Au Fatality Questo che sta parando Ah no ok Non è il cattivo Erano Il modello simile No no È qua lui O no 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 Ce ne sono più di uno Per quello Scusate Au Au Però è un po' di combo Chi questo Con la maglietta Quello con la Con la Croce Ah ok Che si para anche Quindi mi sa che c'è uno Un po' più forte E se lo c'è uno qua Si fa qua per terra Vieni che si para Scusa Che bella musica Sì perfetto Piano Piano è arrivato il treno, Gesù, sei molto più impressionante di quanto mi avevamo detto la rivoluzione ha bisogno di queste abilità lo sappiamo lo sappiamo non ti piacciono i nostri metodi però siamo figli lo stesso andiamo verso la capitale allora esatto andiamo a spaccare un po di come se l'avessimo fatto spaccato fino tra l'altro stiamo facendo una strage a pugni e non arriva nessuno è il treno di fiebel conquista al west tra l'altro il treno più grande del mondo c'è quanto spazio c'è sì esatto sotto c'è oh che bello ma ci sono i fisarmonicisti i fisarmonicisti stanno cantando eh sì mother russia esatto in serio noi facciamo una strada ah no ok sono gli accattoni eh magari sono buoni scusi non posso aiutarlo ah no no sono cattivi beh c'è la tipa di prima pensa se si può prendere se si potrà prendere la fisarmonica per combattere si usa la fisarmonica per combattere ti prego comunque ci sono delle borse sopra forse possiamo usare anche quelle sì c'è la fisarmonica e qualche rumore puoi picchiarli con la fisarmonica arriva altra gente ah i controllori i biglietti prego scusa con la fisarmonica ecco ti sce anche dietro ecco prendi su è finito ah no ok cos'è questo controllore uno verde ah sono super mario e luigi nooo uno verde e uno rosso con i baffi e va bene continuo avanti magari non dovevamo neanche picchiarli si infatti siamo tornati indietro a picchiarli era probabilmente il mister egg ecco qua questo c'ha il gas ah no vedi che c'è un altro luigi questo da che mi devo una cosa utile che correndo puoi anche cambiare direzione in verticale se vuoi c'è un sacco di roba lì arrivo arrivo ah no era finita fammi la serie si è fatto ah non ti consumo però dove sono qua? non ti consuma no ero già dentro la ah ho capito com'è tu attivi la attivi la il berserk e poi puoi fare la combo e poi si disattiva subito il berserk tipo lo puoi usare come cosa finale ah se vuoi c'è no c'era un cadavere no no vabbè vabbè beh chissà cosa ci sarà qua dentro un toseghe aspettatevo che mi libero di questi qua io sono qua tranquillo buttalo 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 nooo volevo fargli il lavoro vabbè maia valedetta vieni qua eh quello sono io però sì però ma anche tu eravamo a posto più secondo fatta io sto per tirare vieni qua ah ah vabbè ma vedi tu che sono un po' in crisi aspetta che devo tirare su ah maledizione arrivo eh sì sì vai tranquillo è scaricata sì sono diventato verde di nuovo è bello che si picchiano anche tra di loro ti mi nemmosi Tu 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 Uff Eh? Aspetta che fermo anch'io per guarirmi una Vai Ecco C'è ancora, no? No no Ma c'è la maniglia, no? Siamo passati, ma che? Siamo arrivati Sì, ma che? Ah, è una di un certo volcente Cambia leggermente da terza classe a seconda classe Le cucette con il vetro C'è il walkie talk Puoi usare il walkie talk No, adesso loro non devono toccare il walkie talk Ah, perché se no chiamano No, ha chiamato Abbiamo perso Bello però Anche qua c'è la mini missione Prima era da scortare, questa volta non fargli toccare la cosa Fico Vabbè salta Quindi dobbiamo Io sto a destra, tu sei a sinistra? E io la tengo io Ah, lo tieni Eh, lo uso come arma Io lo poggio qua No, tienila Allora Pippipiridipipiridipipipipipipi Volete questo? Volete questo? Volete questo? E ce la passia A continuare arrivare gente Basta buttarli per terra Si stanno parando Quindi non è che devi smettere Che male Cosa pensi di fare tu? Ah basta prenderlo E grazie Tanti sono? Stai giù Stai giù Stai giù Devo anche curarmi leggermente Oh dovremmo avercela fatto Ma tienlo E' diventato umano E' diventato un punk scheletro Non ancora tu Che cavolo Esci dalla mia testa Abbiamo lasciato la l'inizia trasmettente là Quindi abbiamo finito la missione Tutto bene ragazzi? E' diventato Lui tranquillo Noi siamo mezzi morti Sì esatto E' già avanti Ho una notizia buona o una cattiva? La buona notizia controlliamo il treno Vabbè è già qualcuno Cattiva notizia eh? E' servito Ah ok se gli distruggiamo la testa Giustamente Siamo sopra il treno Cosa sono? Ah attenzione perché se li lanci Volano via Volano fuori dal treno Quindi se riesci a buttarli su tipo con un calcio Volano via Che proprio escono Ah pensavo funzionasse anche con la presa Ah così ok Ah no Ah no ok non sono morti Sono semplicemente fuori schermo Vieni un po' di qua Curati Che mira Ma questi hanno il fucile e non lo usano? Eh per fortuna Ma non lo lasciano neanche cadere Eh scusa Via Ma se li lanci via Vabbè godagni tempo Passa 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 Esatto Ok Ah eccolo No Passa passa Vabbè vai un po' tuo adesso Tau guarda te lancio uno in mezzo Che era l'ultimo Arrivano treni a caso Mother Russia Fermo là Cosa pensavo di fare Dobbiamo saltare da un treno all'altro? Eh sì I controllori stanno menando altra gente Ah Ci hanno tirato granate Vediamo Au Ah Ah sono quelli dietro Che devono c'è di granata Adesso ho visto Eh sì sì sono quelli Cosa ho fatto? Cos'hai fatto? Ho fatto un German Suplex No 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 Ah c'è il German Suplex O Russian Suplex Siamo morti di due con una granata Non neanche ho visto Però va bene Siamo ritornati dove arriva il treno Sì Beh almeno qui Ah sparano Sì Se tu fai le prese con altre direzioni Fa altre cose Ho perso un sacco di tempo per farlo Iniziamo la granata Anche io ho la granata in mezzo Grazie che mi ha spostato No Ci sono anch'io Granata di qua Granata in mezzo Allora no Non prendono la granata Granata la segnala di là No sì Li ha spaccati In mezzo Comunque col calcio L'attacco forte è meglio Perché gli mandi via Con che musica tra l'altro Adesso notavo E che mira è Occhio Ma basta Perché gli sparo verso l'alto Per fargli la presa Ma poi mi sono accorto Che li butta via Bello Quindi uno Ops Mi sono fatto male Uno, due, tre Uno, due, tre Tira su Questo beef Aspetta, aspetta Ah, vai Ah, bisogna saltare Noo More difficult Occhio Ok, c'è il cartello Prima Occhio Ma che non salta Occhio Stavolta Almeno il capo Ma Occhio Fai attacchi In corsa Loro se li prendono tutti Curati Salta L'ho lanciato in avanti Ah, anche i salti È difficile saltare Se vedi Se tu salti Vai indietro Eh sì Perché siamo in aria Bello No, ne so Anche un po' di Spendi Non l'ho vista Ok No, la Eh, lui arriva tranquillo Arriva camminando Ok, siamo arrivati Alla nostra stazione Vediamo di andare Alla capitale Allora Ad Arstotzka No, non è Arstotzka Aspetta, non ho Ah, dobbiamo ancora andare Ah, velocissimo Una notte di luna piena Bello Anche le luci Ah, perché stiamo Stiamo ancora più veloci Adesso Stiamo correndo Ancora di più Attenzione alle granate Hola Ah, questo sono io Che sono morto Mi esplosa sotto i piedi Ma io ho occhio Che sono Curati Che sei pieno Ecco Dove sei? No Ah, è anche sprecata Via Esplodono subito Eh, ma cavolo Non neanche fare Sono morto io Ma non No, sì No No, no Cioè, nei momenti in cui mi risusciti Io muoio subito Sì, posso farlo Mi uccidono subito Cavolo No, adesso sono morto anche io No, adesso sono morto anche io Ah Cioè, tre volte Quattro volte Che ti ho resuscitato Eh, ok Sta durando un po' di più Sto schema No, in realtà Sempre lo stesso No, no, no Ok, siamo fuori Piuttosto fai le prese E con gli entriamo via Eh, mi sa di sì Ah, sai cosa? Buttarli verso le granate Ah, ok No Eh, non le sentono tanto A meno che non lo fanno solo con i cadavere Comunque se usi il lancio Adesso via L'azione è che stanno arrivando parecchie granate Ops Ci sono io in mezzo Eh, io sono morto Ma a me ha fatto il danno Anche se lo per terra No, che cazzo fa? Ecco, adesso le spioranate sono finite Quindi Buttamele un po' di qua Ah, adesso ho visto che c'è Au Eh, ragazzi Eh, con noi ero io Quanta gente c'è? Basta Provo a fare tipo 1-2-1-2 Tipo combo 1-2-1-2 Presa presa Bisogna meno li lanci via E se c'è altri li lanci addosso Io non sto benissimo Vediamo se c'è qualcuno da prendere su niente Au Nooo Presa per terra Un casino Au Eh no, lascia, lascia Sei a puncher Abbiamo sbloccato un altro obiettivo Oh, dai che possiamo prendere da qua Eh, prenditi e curati immediatamente Ancora, ancora, ancora Ah, ce l'abbiamo fatta Uh, stiamo arrivando vicino alla città Io ho sporgiolato via Ok, dai che ce la possiamo fare Bello, bello lungo questa Ma molto, molto intenso È figo così Curati immediatamente Ops Au Questa me l'ero persa Mi è finito un treno addosso Come facciamo sapere? Ah, no, ci sono le cose che vibrono Giusto Eh, vabbè, ma immediatamente passa No, no, ci mette un po' Ci sono le cose che vibrano Vieni in su E come Questo c'è un altro Cos'era C'è un altro C'è un altro frage Giù Su Bellissimo Quello ero io Eh Basta Eh, ovviamente tutti si spostano Eh, va bene Però almeno abbiamo capito come funziona Ok Fico, fico Dai Treno sotto Occhio Ecco Così almeno Si, comunque è alternato Quindi Attento Eh, li sono fastidiosi Perché si Eh, quelli lì Si I barboni Si Usa solo attacchi forti Così li butti per terra Vieni su Posso solo il calcio Così mi porti lontano Ti serve una man No, non ci sono Ah, sono già pieno No, non ci sono No, non ci sono No, non ci sono No, non ci sono E quando hai l'animazione che si è bloccato sui pugni? Sì, esatto, Fischer! Che ci segue! Fischer, Sam Fischer che ci segue! Ah, lui è là dietro! Eh, grazie eh! Stai attento a quello con Night Vision! Sì, grazie! Molto gentile! Occhio che ci sono delle granate, eh! Ah, è lui che lancia le granate! Sì, intanto il treno arriva! Ah, ci lancia i fumogeni per noi, credo! Eh, la madonna! Eh, ciao! Sono molto veloci! Ah, sono dei flashbang! Ok, sono per stordirlo, però bisogna tirare via quelli col fucile! Sono dei flashbang! Io vado su quelle col fucile, vediamo se riesco! Ok! Se no non mi arriva il treno in bocca! Sì sì, sono dei flashbang da... Ah, dobbiamo usare il flashbang in modo che lui venga colpito dal treno! Alla prossima! Maledetti! Ecco! Perché? Ah, si può colpire col flashbang? Eh sì sì, ce l'ho... Eh sì, non vedo! Maledetti che ti blocchano per terra! Ok, sono morti tutti e due! Eh, ne si so! Comunque con il flashbang si può fare... Sì sì sì! Puoi colpirlo col flashbang? Eh no no, infatti era quello... Cioè lo raccogli e lo colpisci! Cominciamo bene! Sop! Giù! Sì era per farlo stare in mezzo! Cazzarola! Via! 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 Dov'è? Via! 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 Si colloca il treno! Su! Su, 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 su! Giù! Gli ho fatto la presa! Fai! io sono morto no lui è morto ah si grandi ciao eh grazie ok adesso abbiamo salvato la rivoluzione non so come ringraziarvi adesso dovremmo andare dal bratwurst si è tipo dirci dove dove dobbiamo andare a downtown ok dove ci sono gli alti ranghi insomma della bratwurst dovremmo andare là a spaccare tutto io sorrido sempre tu non stai bene io sono preso un po' male intanto io ho un occhio nero sempre comunque devo dire che sono fighissimo in animazione questo gioco in generale quando stiamo male, quando stiamo bene figo 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 hai vinto tu con 81 kill anche a questo stage e ci vediamo al prossimo episodio io sono Alistair Brave come sta giocando Yuga ciao a tutti in questa maratona di episodi io sono no ho già detto tutto quindi namaste be brave ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie per la visione!